Il Libro Amaldi utilizza l'oscilloscopio per acquisire i profili sonori dei diversi strumenti musicali, quello che noi invece abbiamo fatto con il programma Audacity. Come Audacity anche l'oscilloscopio è uno strumento che riporta il profilo locale dei suoni. Quindi qua c'è il tempo che scorre e queste sono le sovra e le sottopressioni registrate dal microfono. Inizialmente viene generata un'onda sinusoidale alla frequenza di 300 Hz con questo generatore di suoni. E questa è l'onda sinusoidale visualizzata sullo schermo dell'oscilloscopio. Poi viene aumentata la frequenza fino a 490 Hz. E questa è l'immagine che si forma sull'oscilloscopio. Si vede che l'ampiezza è rimasta la stessa perché il volume non è cambiato, però il profilo è più fitto, cioè è diminuito il periodo che è questo qua. Infatti ogni secondo vengono prodotti più fronti d'onda, d'onda d'aria compressa. Questo è il confronto tra i due profili locali. Ascoltiamo questi suoni. Questi invece sono i profili che si ottengono suonando la stessa nota, nel secondo caso però più forte, cioè ad un volume più alto. Si vede che l'ampiezza di oscillazione è maggiore, mentre la frequenza è rimasta la stessa. Quindi la nota è data dalla frequenza, all'altezza della nota, quanto è acuta e quanto è grave. Invece il volume sonoro, quella che si chiama l'intensità sonora, è data dall'ampiezza dell'oscillazione. Ascoltiamo. Invece il timbro dei vari strumenti musicali è legato alla forma del profilo sonoro, quindi la forma dell'onda. Ricordiamo che il diapason ha una forma perfettamente semisoidale. Qua vediamo come è stato registrato il suono di questi strumenti, con un microfono collegato all'oscilloscopio. Prima il diapason, Prendiamo il diapason e percuotiamolo col martelletto. Percuotiamolo nuovamente in modo più vigoroso. Produciamo, infine, la stessa nota del diapason, un la, con gli strumenti musicali. Osserviamo diversi tipi di forme d'onda.